Musica Bentrovati telespettatori TVS e all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di giovedì 23 febbraio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare l'Italia e il Mediterraneo prodetti da un anticiclone. Questo garantisce tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Nel dettaglio, il mattino sull'Abruzzo le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili e soleggiate su tutta la regione. La ventilazione risulterà debole dai quadranti meridionali e mari saranno generalmente calmi o poco mossi. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche non vedranno grosse variazioni rispetto alla mattinata. Il tempo continuerà a risultare soleggiato in particolar modo lungo il versante orientale, mentre sul versante occidentale della nostra regione assisteremo ad un aumento di una velocità alta e stratificata. Inoltre le temperature risulteranno in aumento su tutto il territorio con valori compresi tra i 15 e i 16 gradi centigradi. Nel corso della serata le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili con i cieli che saranno sereni o poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Nel corso del pomeriggio Nel corso del pomeriggio Nel corso del pomeriggio